La nuova idea volta al rilancio del porto di Giulianova è quella di trasformare entro la prossima stagione estiva i caliscendi in punti di ristoro con proposte enogastronomiche del territorio legate in modo particolare ai prodotti ittici locali. Otto mesi che saranno anche necessari per la realizzazione di servizi essenziali per consentire ai proprietari dei caliscendi, attualmente cinque, di avere i permessi permanenti per esercitare l'attività di ristorazione almeno durante l'intero periodo estivo come accade per i trabocchi della costa abruzzese. C'è un intento comune con i proprietari dei caliscendi che si sono riuniti in un'associazione, l'idea è quella di migliorare anche lì i servizi, quindi realizzare la linea elettrica, realizzare i bagni e poter fare un cambio di destinazione. Oggi sono strutture dedicate solo alla pesca sportiva, speriamo che i proprietari, i concessionari riusciranno ad allargare la concessione anche per attività di piccole attrazioni turistiche. Nel nostro primo mandato abbiamo iniziato a migliorare i servizi per il diporto per cercare di rendere più attrattivo il porto di Giulianova. Ma quest'anno ci siamo riusciti perché gli arrivi di barche in transito sono aumentati notevolmente. Si lavora anche per ammodernare l'interno del porto, sono diversi i lavori che sono iniziati e che devono iniziare? Sì, c'è un bando complessivo che sta gestendo l'Arap, l'Agenzia regionale per le attività produttive, che prevede alcuni lavori di sistemazione della struttura portuale. Una prima parte è stata completata, cioè il rifacimento del muro paraonde, adesso c'è da sostituire le torri faro e mettere lampade a led per un risparmio di circa il 40% di energia elettrica. E poi le tettoie per la pesca, il rifacimento del tappetino di asfalto e i bagni sul molo nord. Invece sul mondo della pesca state cercando di far tornare le barche all'interno del porto? C'è un progetto molto ambizioso che sta prendendo forma, lo portiamo avanti insieme al comune di Giulianova con l'assessore Paolo Giorgini, un progetto legato al rilancio del mercato ittico.